Più di 50.000 studenti e 1.000 insegnanti hanno partecipato in tutta Italia, dalla Toscana alle Marche e dalla Sicilia alla Calabria, ad Energicamente 2018, il progetto ludico-didattico di Estra e Legambiente. Scade il 30 giugno il termine ultimo per partecipare al premio giornalistico Estra per lo sport, ideato e promosso da Estra in collaborazione con l'unione stampa sportiva italiana SG Plus Ghiretti & Partners. Un sistema avanzato di 17 telecamere attive 24 ore per monitorare una strategica area cittadina e il sistema di videosorveglianza installato da Estracom a Prato nell'ambito della sperimentazione di città 5G. 6 milioni di euro per l'efficientamento energetico e lo sviluppo del territorio e Energy Saving, il bando di Estraclima a sostegno delle imprese toscane e marchigiane che parte da Ascoli.